ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ascoltate bene allora io non ho più fatto video su youtube non so se ritornerò a farli presto spero di sì perché tanto se dovessi portare qualche video alla gente non importerebbe quindi io faccio l'ultima richiesta per l'ultimo treno e vi chiedo voi di scrivermi sotto i commenti di questo video cosa vorreste vedere però qualcosa che mi è fattibile che mi è possibile tipo gta ok quello vedremo fifa 21 magari così live qualche video pronostici gameplay perché dai insomma parliamoci chiaro tanto se dovessi fare qualche video verrebbe visto da pochissime persone se dovessi ritornare al mio pieno diciamo rifacendo video un po più spesso la gente non importerebbe molto quindi è per questo anche perché ho deciso di smettere di fare un po i video perché tanto so già i risultati se metto qualche gioco così anche redhead redemption 2 alla gente non importa niente ottengo poco poche visual pochi like quindi appunto per questo chiedo a voi qui sotto nei commenti di questo video quale gioco vorreste vedere scrivetemelo scrivetemelo con un hashtag e il nome del gioco e io vedrò se è possibile che possa portarlo detto questo ragazzi ci sarà uno speciale per cinque anni su youtube che è stato il 14 febbraio l'apertura del canale 2016 e quindi quest'anno si festeggia il quinto anno con qualche giorno di ritardo però forse uno speciale arriverà presto detto questo è tutto forse ci becchiamo alla prossima bella